Se non è stato un cappotto, c'è mancato poco, forse solo le maniche. In Italia, come in Abruzzo, la vittoria del centro-sinistra alle ultime elezioni è stata in dubbia. E dopo tutto, politicamente parlando, anche chi la sminuisce, in fondo, non fa che ammetterla. Ma come ogni patrimonio, anche quello elettorale va amministrato per restare tale e soprattutto fatto fruttare, come ci sta pensando il Partito Democratico, che già guarda i prossimi appuntamenti. I risultati sono sempre il frutto del lavoro di tante e tanti. In questo caso, però, il principale risultato è stato dell'Abruzzo, degli abruzzesi, degli abitanti delle città che hanno scelto i migliori sindaci, la migliore sindaca a Francavilla, che è la città a questo punto amministrata da una donna più grande d'Abruzzo. I partiti danno una mano alle candidate e ai candidati che vogliono amministrare i propri territori perché garantiscono una filiera verticale nel rapporto col Governo e con l'Europa e orizzontale nel rapporto con le tante amministrazioni, in questo caso di centrosinistra, che condividono una rete di idee e di progetti. Quindi nessun trionfalismo, ma è evidente la tendenza che è già iniziata l'anno scorso con la straordinaria vittoria a Chieti, che ci dice che i cittadini vogliono dal centrosinistra e dal PD e dalle forze di centrosinistra e anche dall'alleanza col Movimento 5 Stelle, un'alternativa alla guida della Regione Abruzzo. L'essere tornati un partito del lavoro che segue ogni giorno, ovviamente non solo durante gli apprendimenti elettorali, le vertenze, le opportunità, gli investimenti, in questo caso il PNRR, essere questo e poi naturalmente battersi anche per vincere le elezioni, significa svolgere un lavoro costante che poi dà i suoi frutti. Abbiamo unito il più possibile, siamo stati inclusivi e questo ha premiato il PD. La destra sostanzialmente non ha cambiato musica, ha continuato a suonare una musica sovranista, stando un pezzo al governo perché vogliono gestire questi fondi e all'opposizione di quel governo. Per cui immaginatevi il povero candidato del centrodestra del territorio, candidato a guidare un comune, per esempio d'Abruzzo, che doveva decidere se invitare il ministro o il leader di opposizione a quel ministro o nessuno dei due presumibilmente, è evidente che c'è una contraddizione. Il centrosinistra da una parte di fronte alla pandemia ha capito e ha ribadito la centralità del sapere, della sostenibilità ambientale, della scuola, il fidarsi della scienza e non ondeggiare di fronte ai Novax o ai Green Pass e quindi siamo stati più coerenti e poi siamo tutti, tutte le forze di centrosinistra del Movimento 5 Stelle che si sono alleate nel territorio, sono insieme al governo del Paese.